Ciao, sono Annalisa e leggo Presdonna. Ti consiglio di leggere, scelto dalla Biblioteca di Presenza Donna, di Donatella Mottin, Voci di donne. Maria, Elisabetta e le altre raccontano Gesù. Maria Tacini Fazzi, editore. Donatella Mottin, Vicentina, in questo suo primo libro immagina le dodici donne che incontrano Gesù nel Vangelo, parlare di se stesse e del loro incontro. Alcune di loro hanno avuto l'opportunità di fermarsi a incontrare Gesù in modo più approfondito, altre lo hanno solo sfiorato, alcune lo hanno incontrato da lontano. Eppure tutte loro escono da questo incontro in qualche modo cambiate, loro e la loro vita. Ma lo straordinario di queste pagine è che anche Gesù sembra in qualche modo uscire toccato dall'incontro con queste donne, dal loro coraggio, dalla loro disperazione, dal loro amore, dalla loro fede. E a ciascuna di queste donne è accompagnata da una stupenda illustrazione realizzata per il libro da Chiara Peruffo, un'illustratrice anch'essa vicentina. E anche queste immagini ci parlano. Il libro va letto e centellinato, tenetelo accanto a voi e scoprite ogni volta che cosa queste donne hanno da dire di loro stesse, di Gesù, ma anche a ciascuna di voi. Donatella Mottin, Voci di donne, Maria, Elisabetta e le altre, raccontano Gesù, puoi chiederlo in prestito alla Biblioteca di Presenza Donna e trovi tutte le informazioni a video. Leggi Presdonna!